Grazie Presidente. Presidente Gentiloni, siamo agli ultimi mesi prima della caduta del vostro impero. Lei è l'ultimo Presidente... Presidente, io non ho neanche iniziato, se è possibile parlare, altrimenti questa è censura. Sì, onorevole Di Maio, stavo appunto richiamando i colleghi, quindi... Io non ho neanche iniziato a parlare. Infatti, colleghi, è lecito pensarla diversamente, ma in Aula tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero. Prego, onorevole Di Maio. Dicevo, Presidente Gentiloni, siamo agli ultimi mesi prima della caduta del vostro impero. Lei è l'ultimo Presidente... Insomma, colleghi, colleghi, onorevole Albanella. Prego, onorevole Di Maio. Lei è l'ultimo Presidente del Consiglio dei Ministri dell'era dei partiti. E come al tramonto di ogni era, l'ultimo in carica gestisce il suo mandato assistendo inerme alle conseguenze drammatiche delle politiche di chi l'ha preceduto, mentre i cortigiani arraffano tutto quello che possono e scappano. Il suo governo è il più debole, il più silenzioso. È l'ultimo. Assiste al declino del nostro Paese in panne, bloccato dai veti incrociati della sua maggioranza frammentata. Avete provocato danni al nostro Paese pari a quelli di una guerra mondiale. Ma non potrà essere lei a risolverli, Presidente. Significherebbe smentire il suo stesso partito, Presidente Gentiloni, i suoi stessi voti dati in Parlamento, le sue stesse decisioni, i vostri stessi compromessi. Significherebbe ammettere la vostra incapacità e la vostra malafede. Lei non è neanche il capo di questo governo. Altrimenti, dopo che è scoppiato lo scandalo Consip, avrebbe fatto dimettere il Ministro Lotti, viste le accuse pesantissime a suo carico. Ma non ha la libertà per farlo, evidentemente. Come evidentemente non ha la libertà di rimuovere nessuno dei protagonisti di questa vicenda che restano tutti al loro posto, come la Didi Consip Marroni. Lei è l'ultimo di una stirpe di Presidenti del Consiglio mai passati per le elezioni, che hanno sempre ricevuto il sostegno incondizionato del Partito Democratico e di una serie di parlamentari che hanno contribuito al mercato delle vacche più grande della storia della Repubblica. Guardi la sua maggioranza. Eravate tre gruppi quando siete entrati qui alla Camera. Oggi ne siete nove, tra gruppi e componenti varie. Con i vostri continui cambi di casacca per assicurarvi la maggioranza, avete fatto diventare il gruppo misto il terzo partito di quest'Aula. Qui dentro si sono votate le leggi più sanguinarie... Lei ha titolo a dire il suo pensiero, però questo non è un dibattito sulla fiducia, questo è un dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio sul Consiglio europeo. Presidente, ma come si permette? Questa è la discussione generale. Perfetto, è la discussione generale sulle comunicazioni del Presidente. La richiamavo a tornare all'Europa. Io sto argomentando su un governo che viene a chiedere di essere impegnato per andare in Consiglio europeo. Perfetto, ecco, arrivi a quel punto. Ma lei non decide la scaletta del mio intervento, Presidente. No, 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 non mi permetterei mai. Lei non decide la scaletta del mio intervento. Onorevole Di Maio, va bene, continui, prosegua con il suo intervento. In quest'Aula c'erano dieci gruppi, tra gruppi e componenti all'inizio della legislatura. Oggi ce ne sono quasi venti. La maggior parte delle singole presenti neanche esistevano sulla scheda elettorale delle ultime elezioni politiche. Siamo la legislatura col più alto numero di cambi di casacca della storia e anche questo è merito vostro. Le ricette che lei viene a proporre qui, Presidente Gentiloni, non hanno ricevuto nessun consenso degli italiani, quindi per noi neanche esistono. Siete ormai un'aristocrazia sul viale del tramonto che, per evitare di far votare i cittadini italiani, ha fabbricato governi in provetta, mettendoci a capo tutti i profili di premier possibili e immaginabili. Nel 2012 il PD ha sostenuto il professor Monti e la sua squadra di bocconiani, passate alla storia per la più infame riforma delle pensioni della storia del nostro Paese. Anche questa ce la chiedeva l'Europa, meglio conosciuta come riforma Fornero. A un milione di italiani è stato impedito di andare in pensione e un milione di giovani italiani sono stati espulsi contemporaneamente dal mondo del lavoro. L'avevate fatta per ridurre il debito pubblico. Come sta il debito pubblico oggi? È a livelli record, quindi quella riforma è inutile. Dopo le elezioni politiche del 2013, dove il Movimento 5 Stelle si è classificato prima forza politica italiana, avete rieletto per la seconda volta lo stesso Presidente della Repubblica, che ci ha regalato a capo del Governo il giovane dimocristiano Letta. Passerà alla storia per aver trasferito in una sola notte 7 miliardi e mezzo di euro alle banche, mentre voi della maggioranza cantavate bella ciao, intonavate bella ciao in quest'aula. Roba da far accapponare la pelle. Letta lo avete usato sempre in nome delle clausole europee per aumentare l'IVA al 23%, e poi lo avete silurato con uno stai sereno insediando a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha detto più bugie di tutti agli italiani. Diceva di voler aiutare la scuola e ha massacrato gli insegnanti con la buona scuola. Diceva di voler aiutare i lavoratori e ha abolito l'articolo 18, liberalizzato i voucher e eliminato per sempre il contratto a tempo indeterminato. Voleva aiutare i poveri e l'ultimo suo atto è stato tentare di finanziare il Golf con 97 milioni di euro. Gli italiani lo hanno mandato a casa con il referendum. Poi è arrivato lei, Presidente Gentiloni, e il suo primo atto politico è stato un decreto per trasferire miliardi di euro alle banche. Dopo quattro anni che ci avete detto che non c'erano soldi per il reddito di cittadinanza, per le forze dell'ordine, per le imprese italiane, per il Fondo per le disabilità, ha cacciato fuori dal cilindro 20 miliardi. Complimenti. Oggi viene qui a chiederci di impegnarla sui punti fondamentali per l'Italia da portare in discussione nel Consiglio dell'Unione Europea. Ma quando mai voi del PD siete andati in Europa a difendere gli interessi degli italiani? Io non ne ricordo un solo caso. Negli ultimi cinque anni avete inserito in Costituzione il Fiscal Compact modificando l'articolo 81 e mettendo una camicia di forza all'Italia. Avete dato l'ok a trattati vergognosi che stanno o stavano per distruggere il nostro Made in Italy, come il TTIP, il Sita, il MassChina, il Trattato per le Arance Marocchine e per l'ingresso senza dazzi dell'olio tunisino, oltre alle inutili sanzioni alla Russia. Avete importato nel nostro ordinamento direttive oscene come la Bolkestein e il Belin. E nel 2013 avete rinnovato il regolamento di Dublino, un trattato che ci costringe a tenere sul suolo italiano tutti gli immigrati che approdano in Italia, senza possibilità di redistribuirli in altri paesi europei, creando una pentola a pressione che prima o poi esploderà, anche grazie a quelle cooperative che fanno business sugli immigrati e che in alcuni casi vi hanno finanziato la campagna elettorale. Tutta roba da abolire per noi. Siete sempre andati in Europa a fare solo photo opportunity e a curarvi gli affari vostri. Presidente, lo ha capito che la foto che si è fatta a Versailles con la Merkel, con Hollande sull'Europa a due velocità, è solo un volantino per la campagna elettorale di Angela Merkel e le sue elezioni che si terranno ad ottobre. Ha capito che in questo momento la Merkel lancia l'Europa a due velocità come Renzi lanciava gli slogan in campagna referendaria solo perché ha le elezioni ad ottobre. E noi siamo lì, sempre al seguito, senza nessuna credibilità ai tavoli europei. Ormai tutti vi conoscono, vi hanno imparato a conoscere in tutti questi anni in cui avete detto sì alle peggiori porcherie e vi considerano ormai alla stregua di faccendieri del potente di turno e nient'altro. Non siete un governo credibile che possa sedere a quei tavoli. Che fine ha fatto la legge elettorale? L'avevate promessa, sbandierata in tempi record e poi tutta un tratto è scomparsa, insabbiata, fuori dai radar, dall'oggi al domani, perché non volete più andare a votare. Per fortuna la Costituzione italiana è ancora integra. Abbiamo fermato il vostro assalto a dicembre, mettendolo a riparo dalla riforma Renzi-Boschi-Verdini. E grazie a quella Costituzione, all'elezione diretta di Camera e Senato, i cittadini presto potranno tornare a votare e mandare i propri portavoce in Parlamento. Dopo la caduta del vostro impero arriverà un nuovo rinascimento di questo Paese. E quest'Aula sarà composta finalmente da una maggioranza di cittadini liberi che non avrà bisogno di piazzare i propri compari a capo della Consip per favorire gli imprenditori amici negli appalti pubblici. Che non avrà bisogno di rimborsi elettorali per dopare la propria forza politica. Non avrà bisogno di finanziare le banche perché le banche avevano finanziato le vostre fondazioni. Ricordatevi dei vostri volti, ricordatevi di questo gruppo parlamentare che avete ingiuriato, deriso e calunniato per anni, che avete dovuto costringere nell'angolo con le vostre ghigliottine, con le vostre forzature regolamentari, i vostri insabbiamenti di leggi importanti come quella sul reddito di cittadinanza, come una seria legge anticorruzione. Ricordatevi di questo gruppo che vi ha fermato quando volevate mandare violante alla Corte Costituzionale o quando volevate punire i comuni italiani che combattevano le slot machine o quando volevate nominare De Luca commissario della Sanità in Campania o violentare la Costituzione con la modifica dell'articolo 138. Io vi chiedo di ricordarvi di questo gruppo perché dalla prossima legislatura in quest'Aula sarà tre volte più grande e potremo finalmente fare quello che voi per quattro anni non avete mai fatto per il popolo italiano. Presidente Gentiloni, se vuole lasciare il ricordo di un briciolo di giustizia in questi quattro anni di ingiustizia, dica almeno ai suoi di votare la nostra proposta per abolire le pensioni privilegiate dei parlamentari e poi chiuda la porta, spenga la luce e ci faccia andare al voto.